E buongiorno piloti o buonasera piloti, a seconda di quando vedete questo video e benvenuti in un nuovissimo jet lag. Alcuni giorni fa, il 16, 17, 18 giugno 2024, si è tenuta a pratica di mare la MAF dei 100 anni dell'aeronautica militare italiana, cioè una manifestazione aerea dedicata appunto alla commemorazione dei 100 anni di attività dell'arma azzurra. Abbiamo visto degli aerei meravigliosi, bellissimi e vogliamo fare due considerazioni che riguardano anche la nostra attività di piloti virtuali. Purtroppo per motivi di lavoro non sono riuscito ad andare a vedere questa manifestazione aerea, ma i miei amici del Griffey Jet Team, delle frecce tricolori virtuali e soprattutto anche del gruppo Volorair, mi hanno mandato un pochino di fotografie e voglio vederle insieme a voi e fare appunto in questo jet lag alcune considerazioni. Bene, io sono Lorenzo e benvenuti in un nuovo jet lag. Sono Lorenzo Daino, sono un simmer appassionato di volo da quando usavo il Commodore 64 e l'Amiga 500. Nel 2009 ho deciso di registrare i miei progressi e renderli disponibili a tutti attraverso la rete. Da allora non ho mai smesso di raccontare ciò che è volo simulare. In questo canale vi parlo del mio percorso, delle mie esperienze e di quello che negli anni ho imparato e continuo a imparare nel magico mondo della simulazione di volo. Happy Landings! E bentornati in studio appunto per questo nuovissimo jet lag. Prima di cominciare come sempre ti invito se non lo hai ancora fatto a lasciare un bel mi piace, iscriviti al canale spuntando anche sulla campanellina e ti invito anche se puoi ad abbonarti al canale in modo da sostenerlo e per vedere il tuo nome alla fine o all'inizio di ogni video che faccio. Ricordati poi che ogni poco tempo pubblico notizie riguardanti la simulazione di volo e le mie attività direttamente su un canale telegram. Trovi qui sotto in descrizione tutti i link del caso. Ma veniamo a vedere quella che è stata la MAF appunto dei cento anni dell'aviazione militare italiana. Piccola considerazione alcune fotografie che vedrete qua fanno parte diciamo di quello che si trovano pubblicamente sul sito dell'Aeronautica Militare ma alcune sono state mandate direttamente dai miei amici appunto piloti virtuali. Andiamo sul computer per vederle insieme. Bene la MAF si è ha iniziato con questa bellissima formazione dove ci fa vedere appunto il numero 100 disegnato con i velivoli dell'Aeronautica Militare. A sinistra vediamo gli F-35, al centro gli Eurofighter e ha direttamente a destra appunto il tornado. Andiamo avanti appunto con esibizioni singole da parte appunto dell'Eurofighter. Qui vedete questa suggestiva fotografia con i post produciatori accesi e quindi fa bello sfoggio di sé appunto questo Eurofighter. Eurofighter che rivediamo appunto nella fase di taxi insieme a un F-35 e sullo sfondo appunto le nostre frecce tricolori. Passiamo poi all'F-35 appunto che in questa immagine ci fa vedere che può eseguire il decollo verticale. Decollo verticale appunto che gli permette di partire, decollare appunto e anche atterrare in piste molto corte e appunto fare atterraggi come se fosse un vero e proprio elicottero. Passiamo poi a un'immagine suggestiva, diciamo a un gruppo legend, gruppi legend l'avevamo già visti anche durante la MAF, andatela a vedere qui perché troverete alcuni aerei che sono presenti anche in questa manifestazione reale. Torniamo sul computer, l'aereo che vi voglio fare vedere è sicuramente quello in basso a sinistra rosso che è un MB-326. MB-326 che io ho ripreso anche durante un piccolo shorts Lorraine in una rotonda qui vicino a casa mia perché spesso e volentieri questo aereo lo troviamo a fare bella mostra di sé come monumento nelle rotonde o in alcune zone particolari delle nostre città. In questo caso io ce l'ho a Fidenza a pochi chilometri da casa mia. Bene, questo aereo vederlo in volo è suggestivo. Io l'ho visto veramente in una manifestazione aerea di qualche anno fa e vederlo rivolare quello che era un caccia, anzi un aereo addestratore, beh è una grandissima emozione ed è bello rivederlo in questa manifestazione aerea dove appunto si è avuto una rievocazione storica molto importante. Qui vediamo poi altri MB-339 e dei velivoli appunto di addestramento e storici a Edica. Qui troviamo il bellissimo F-86F Sabre aereo in forza appunto all'arma azzurra, aereo che conosciamo anche in DCS che è stato utilizzato anche dai Griffijet Team per la rievocazione storica appunto dei Lanciani Neri. Aereo veramente meraviglioso, poi io l'ho visto anche negli Stati Uniti e vi posso garantire che è veramente bellissimo. Passiamo appunto a altri velivoli storici sulla diciamo così lo sfondo le frecce tricolori con i vari loghi delle varie reparti dell'aeronautica militare. Bellissimo appunto questa e colorazioni e poi di nuovo anzi l'arrivo di un bellissimo velivolo che lo vedete a sinistra vicino ai due aerei più nuovi. Si tratta dell'F-104. Questo F-104 ne avevamo parlato con Mauro Zanotti anche durante la MAF. Mauro Zanotti che saluto e ringrazio anche perché mi dà sempre un sacco di informazioni importantissime. Bene, questo F-104 è un F-104 appartenuto all'aeronautica militare italiana e che è stato acquistato da questa società che si chiama Starfighters e che è stato come vedete colorato con i colori in fondo appunto dei cento anni dell'arma azzurra. Infatti in fondo nell'impennaggio appunto di coda vedete appunto i loghi dell'aeronautica militare. Vederlo rivolare sopra le nostre teste dopo secondo me 30 anni è un'emozione bellissima, un'emozione incredibile proprio perché è stato uno degli aerei più iconici e più amati anche dall'arma azzurra. Adesso però voglio farvi vedere un altro aereo secondo me molto importante, forza anche non proprio più dell'F-104 ma comunque al pari dell'F-104. Si tratta del G91 Pan. Bene, sui social dedicati appunto alla simulazione di volo e all'aeronautica in generale se ne è parlato tantissimo. Anche qui rivedere in volo questo aereo è veramente un'emozione grandissima. Aereo che pensate era un rottame, fondamentalmente un rottame, presso l'aeroporto di Piacenza, è stato riassemblato, hanno preso parti di altri G91, insomma l'hanno rimontato e l'hanno fatto rivolare appunto a pratica di mare. In questa fotografia vedete un momento della colorazione, di nuovo il rifacimento della livrea di Pony 10, di questo aereo appunto con le colorazioni delle frecce tricolori, il famoso G91 Pan Pony 10, in questo caso. Bene, questo aereo è bellissimo, è un aereo che potete trovare in tantissimi posti in Italia, anche nelle famose rotonde, ma anche, se lo volete vedere, a Volandia o al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. Quindi secondo me è un aereo da vedere, magari se riesco a avvicinarmi a questo aereo qua in particolare vi farò un video, non lo so, magari sì, magari no, non lo so, magari è una promessa che non riesco a mantenere, vedremo. Comunque, appunto, rivederlo in volo è stata un'emozione assolutamente grandissima. E adesso passiamo a alcune considerazioni che secondo me sono doverose per il mondo della simulazione di volo. Volevo farvi vedere anche dei video, ma, diciamo così, i miei agili tecnici non mi hanno permesso di farlo, ma comunque ci sono sui canali YouTube anche momenti video di questa manifestazione aerea. Vi volevo parlare, però, della simulazione di volo. Sappiate che gli aerei che avete visto qua sono tutti visibili e tutti utilizzabili nei nostri simulatori di volo, sia che si tratti di Fly Simulator, sia che si tratti, appunto, di DCS. Soprattutto per quanto riguarda il G91, sappiate che sono già presenti la livrea, è già presente la livrea di questa manifestazione, proprio per la versione, appunto, del G91 Punk che abbiamo visto qui, ma anche quella per l'F-104. Io attendo, appunto, gli sviluppatori di India Fox Eco, proprio su questo velivolo qua, che so che è in sviluppo, quindi, se mi ascoltano, vi aspetto al varco perché voglio assolutamente provarlo, però vi posso dire che l'avete già visto questo aereo nella MAF che abbiamo fatto insieme alle frecce tricolori virtuali. Ma non voglio dire di più. Andatevi a rivedere quel video, andatevi a rivedere quella manifestazione, perché se, come me, non siete riusciti a vedere questa manifestazione aerea, che sicuramente è più suggestiva rispetto a una simulazione di volo, beh, comunque, la MAF che abbiamo fatto, diciamo così, vi permetterà di rivivere emozioni, come dico io, a 9G. Bene, anche per oggi è tutto. Lasciatemi qui sotto le vostre considerazioni. Se voi siete stati, fatemelo sapere, ditemi che cosa vi ha colpito. Io vi attendo alla prossima puntata del Jetlag. Anche per oggi è tutto. Happy Landings by E-Live. Ciao, alla prossima!